Dove sei? Ciao! Hai visto che è arrivato un bel fiore oggi? Quale dei tanti mila? Guarda che bello! Non so trovare il nome! Dovemmo trovare il nome del fiore! Vediamo che fiore e come si chiamerà! Come si chiamerà questo fiore? Guarda che bello! Veramente bello! E' bello come te, mamma mia! Ma è bello questo fiore però non so il nome perché se sapessi il nome io ho il quaderno, so come bagnarlo, so com'è! Ah, importantissima cosa! Annuncio per tutti il nome del fiore! Vediamolo bene! Non lo so, è un fiore, ma c'è scritto un nome qui però non so cos'è, se è la ditta o cos'è! Abbiamo lanciato l'annuncio, voglio sapere che fiore è! Chi conosce questo fiore è più piccolo perché lì ho il libretto ma non so il nome! Io i libretti ce li ho ma non so il nome! Non trovo sul libretto! Guarda che bello! Perché qui c'è scritto, sarà il nome della mamma! Guarda che bello! E' veramente bello! Anche profumato! Me l'hanno profumato! Bello, grazie, grazie! Guarda! E' proprio bello questo fiore, si! Lo tengo bene, sai? Si! Lo otterrò bene! E' contenta, come contenta! Contentissimo! Guarda che bello! Magari Gesù! Lo scopriremo! Ah, Gesù forse la spiegazione! Ah, bisogna tirarlo fuori! Ecco, bisogna tirarlo fuori! Ah, bene! Adesso però ci vuole gli occhiali! Adesso dobbiamo prendere gli occhiali! Eh, guardi! Eh, già tutto spiegato! Finito l'annuncio! Eh, tutto spiegato! No, 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 ma! No, no, però se lo sanno! Se lo sanno mi spiegano! Perché magari io capisco meno! Capisco poco! Bravo, grazie! Guarda che bello! Non te l'ho regalato io! Bravo a me non dirlo! Guarda che bello! Bello, bello, bello! Ma Gesù, Gesù la spiegazione! Come si fa a bagnare! Guarda! Va bene! Va bene, grazie! Ciao, ciao!